Dobbiamo stare in casa, ma questo non basta. Non dimentichiamo che facciamo parte di una comunità, di una città che sa fare del bene. Medici, infermieri, malati, ora più che mai, hanno bisogno di tutti noi, del nostro donare. Vorrei citare Lucia Neoseneca, che in una lettera delle sue opere morali scrive Spesso un piccolo dono produce grandi effetti, ed è proprio così, donate, anche poco, restando a casa. Grazie a tutti.